telecreme pulita buona questa non quell'altra c'è un po' di overdrive questo è il mio pancetto di pulita questo qua ciao a tutti sono Fabio Vitiello siamo qua per andare a verificare quanto incide il legno di un cabinet di una cassa sul nostro suono per fare questo faremo un confronto fra due casse in legno massello perché il tipo di legno dà un certo un certo è tutto bene